Ciao, mi chiamo Chiara Tansilli, ho 27 anni e vengo da un paesino in provincia di Frosinone. Nella vita, oltre che fare l'attrice, sono una personal trainer, lavoro in una palestra e mi occupo anche di social, faccio diciamola content creator e realizzo contenuti appunto sul fitness e aiuto ogni giorno ragazze come me nelle loro prime esperienze appunto in palestra. Sono laureata in lingue, infatti conosco molto bene l'inglese e lo spagnolo e durante gli anni di accademia, di recitazione, ho fatto canto e mi piaceva tantissimo anche da piccola e infatti ho anche fatto lezioni insomma di chitarra e la suono tuttora insomma per gioco. Ho fatto anche ballo e scherma, sempre in accademia. Poi vabbè da piccola nuoto, questi sport che si fanno da bambini. Mi ritengo una ragazza molto solare, intraprendente, mi piace viaggiare, mi piace scoprire cose nuove, fare cose nuove, sono sempre in movimento, non mi stanco mai. Uno dei miei talenti più grandi sicuramente è l'ascolto e l'empatia e anche cucinare. Ecco i miei profili.